Quando perdo il controllo, capitano cose brutte. Silenzio! Rompo le cose. Che ne pensi? Se tu rompi qualcosa, io posso aggiustarlo. Ho una scuola per ragazzi che sono come te, Jean. Potremmo essere la tua nuova famiglia. Se ti va. Forza! Kurt, dov'è lei? Dov'è lei? Mi dispiace! Jean! Dovrebbe essere morta. Qualunque cosa sia successa l'ha resa più forte. Si sta trasformando... In cosa? Sono spaventata. Quando perdo il controllo, capitano cose brutte alle persone che amo. Io con te non mi arrendo, Jean. È questo che fa una famiglia. Ci aiutiamo a vicenda. Basta! 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 Quel potere ha distrutto tutto ciò che abbia avvicinato prima di te. Chi non capisce ha paura. E chi ha paura vuole distruggere... Sei una ragazzina spaventata che obbedisce a uno su una sedia a rotella? O sei la creatura più potente del pianeta? Lei ci ucciderà tutti. Jean! È colpa tua, Charles. Dimmi come la risolviamo! Dimmi cosa fare! Io non so cosa fare! Lei morirà. È pur sempre Jean. Possiamo ancora aiutarla. A volte, vuoi credere che le persone siano qualcosa che non sono. Ma quando ti rendi conto di chi sono... È troppo tardi. Arriva. Grazie a tutti.